Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Io breve perché? Perché il gioco è ricchissimo, ricco di particolari, ricco di storia, ricco di variabili, non vi voglio spoilerare nulla, ma vi voglio dire le mie impressioni, soprattutto le positive, ma anche le negative, perché ce ne sono di pari negativi su alcune cose. La prima cosa vi dico che se siete appassionati di gioco di ruolo e probabilmente non avete magari persone con cui giocarci, l'avete giocato una volta, vi è piaciuto, insomma volete approfondire, questo è il gioco che fa per voi, superiore a Solasta, superiore a Pathfinder, superiore a qualsiasi altro gioco attualmente presente, è il miglior espositore di un gioco di ruolo D&D. Questo senza ombra di dubbio, a fine anno secondo me sarà tra i tre migliori giochi dell'anno, su questo vi rassicuro come stanno facendo tutti. Seconda cosa, se cercate delle guide, perché magari non riuscite a fare delle cose, cercate delle guide recenti dopo l'uscita del gioco e vi consiglio di aspettare ancora un po' perché, continua ad essere della mia idea, quella che dissi qualche giorno fa, le guide tutorial uscite prima dell'uscita del gioco sono delle fave secche. Praticamente non valgono niente perché il gioco è cambiato, quindi le guide sono state fatte per generare hype o per sfogare l'hype di chi le ha fatte, quindi ecco, questa è la mia idea molto brutale. Allora, le cose molto interessanti sono la grandissima varietà che il gioco vi offre dal punto di vista delle prove da fare. Ci sono prove in cui tirate i dadi per, che so, volete affrontare una persuasione, un'intimidazione, una qualsiasi tipo di cosa, di analisi, che so, uno ferito, allora potete fare o la prova di guarire, quindi vi usa la vostra abilità che avete in quel punteggio del guarire, insomma della medicina, piuttosto che la conoscenza magica per capire se. Vi fa partire il tiro di dado, che è molto bello da vedere. Si fa tante volte questo. La furtività, lo scassinamento, ci sono un sacco di cose. Quindi quello è un vero e proprio gioco di ruolo. Il combattimento è dinamico. Il combattimento, il mondo di gioco in realtà, ricorda molto quello di Divinity. Anche l'inizio, dire la verità, perché l'inizio sulla spiaggia è praticamente Divinity. L'uno e il due, insieme. Divinity non mi ha fatto impazzire perché lo trovavo un gioco pesante. Vi dico, qui ci sono rimasto un po', però mi è passato, perché vi parlo da uno che non ha apprezzato tantissimo, l'ho trovato molto, come ho detto, pesante, molto macchinoso e soprattutto con dei combattimenti troppo lunghi. Questo è decisamente meglio. Quindi punto a favore di Baldur's Gate. Perché? Allora, perché ha delle regole. Le aveva anche Divinity, però non le conosceva nessuno. E quindi risultava un pochino più un puzzle game, perché il combattimento vi faceva partire con i nemici. Avevano, magari in fondo c'era il barile dell'olio, il barile del fuoco. Dovete trovare il modo di combinarli insieme per far esplodere tutti. Qua potete fare un combattimento classico, come lo conoscete, quindi tiro per colpire, con l'arma, con la spada, con l'arco. Ma se vi ingegnate potete fare delle belle cose. Perché? Perché, premendoci, mi nascondo e non mi divento una botta o un cespuglio come in Divinity. E' fatto più seriamente. Quindi potete organizzare, tipo saltare e andare in un punto magari non raggiungibile. E attaccare tutti dall'alto. Una delle cose. Potete separare il vostro gruppo, quindi staccare le persone e non muovervi tutti insieme. E se volete approcciare il combattimento, c'è una cosa molto bella, potete far diventare a turni la partita quando non è in combattimento. Quindi, che so, qua c'è una trappola, ad esempio. Qui ci muoviamo tutti contemporaneamente, quindi agiamo noi, agisce la trappola. E quindi potete organizzarvi. Mi metto qui, nascosto, col mio attacco furtivo da ladro. Intanto prendo gli altri, li metto in un altro punto e inizio col mio attacco furtivo. Quindi potete organizzare la partita come meglio credete. C'è una fortissima componente di ruolo, perché ad esempio io ho conosciuto uno dei personaggi. L'ho fatto due volte perché poi ho ricaricato la partita e sono successe delle cose diverse, totalmente diverse. Perché il gioco fa continuamente dei tiri per vedere se scoprite le cose. Ad esempio, noi camminiamo qua, a un certo punto si vede che tirano i dadi tutti di percezione per capire se c'è qualcosa. E noi non lo sappiamo. Potremmo anche non trovare nulla e andiamo dritti. Ma la volta che troviamo qualcosa magari compare che c'è qualcosa di nascosto qui, un passaggio segreto che ci porta in un'area che se non lo troviamo nella nostra partita non troveremo mai quel posto. Io in un sotterraneo ho trovato un passaggio segreto che mi ha aperto una trama, una sotto quest, ma soprattutto una lore infinita su quel luogo che era un sotterraneo di un banalissimo negozio. E quindi lì ho approfondito, ho una quest attiva molto inquietante che non so come poi finirò, insomma. Quindi questa è una figata del gioco. Il gioco però, vi ho parlato un po' del combattimento, ogni personaggio che incontrate in giro ci parlate, vi parte la cutscene, ci parlate, ottenete informazioni, potete interagire con le varie prove, che so, di persuasione, di intuizione e cose varie. Quindi il gioco è pazzesco dal punto di vista del ruolaggio, ma, vabbè, lasciate che vi parli ancora di una cosa. Ad esempio, l'interfaccia è abbastanza complicata, è un po' macchinosa, ci dovete prendere la mano, facci l'occhio. Ma ad esempio, qui avete la modalità attacchi non letali. Pensate, avete bisogno di informazioni da un nemico, ma il nemico vi attacca. Voi cosa fate? Passate in modalità attacchi non letali e lo colpite di piatto con la spada, ad esempio, non lo uccidete. E quando si rinviene, lo interrogate. Oppure, tra di voi avete un mago, con l'abilità di parlare con i morti, e parlate con i morti. Quindi lo uccidete e poi ci parlate. Insomma, sono delle varietà di cose. Ad esempio, sono state cambiate alcune regole da D&D. Quindi D&D c'è, ma non è al 100% uguale per esigenze ludiche. Bevete una porzione per parlare con gli animali, continuate a parlare con gli animali, fino a quando non dormite. E approcciare un animale selvatico che vi attacca parlandoci, piuttosto che sentire solo i gruniti e decidere cosa fare sentendo solo i gruniti, vi cambia notevolmente il gameplay per capire le varie cose. Quindi le possibilità sono assolutamente infinite. E vi dico che ho rigiocato alcune cose perché magari sono morto, ho sbagliato delle scelte, e io ricarico solo se mi parte un combattimento improponibile, o esplode tutto e muoiono tutti, o muoiono quasi tutti. Cioè rovino decisamente la cosa, o faccio una cosa che non volevo, clicco per sbaglio. In quei casi lì, se no, una scelta che faccio in un modo e non funziona la prova, fallisco la prova, la lascio andare così com'è. Quindi insomma, questa è una cosa molto bella, una figata. Le cose che non mi piacciono del gioco sono, in primis, la visuale. Perché la visuale, vedete, così attaccata, vi impedisce di capire bene cosa succede. Voi vedete qui, tante volte cliccate qui e loro partono per andare su lì. Adesso ho cliccato questo lampadaio, questo pendi abiti, e stanno andando lì. E quindi tante volte magari cliccate in un punto, e dato che loro possono comunque scalare e arrampicarsi, finite in delle situazioni non troppo belle. Ma soprattutto, quando vi trovate in un ambiente molto aperto, con dei saliscendi, con delle zone che potete vedere lontano, non è comodissima. La mappa è fatta da Dio, perché è fatta a quadretti come la classica da D&D. Però non mi trovo bene. Un'altra cosa, che è una criticità del gioco secondo me, ma anche lì, bisogna farci l'occhio, sto iniziando a farmelo, però ve lo dico nel caso in cui foste indecisi sul gioco, tante volte, appunto, passate vicino al luogo, vi fa la prova, ma la fa talmente veloce che anche andare a vedere nel log, dice, fate una prova di percezione, ma alla fine non capite esattamente, oppure la passate, ma non vedete niente, dovete passare un po' il mouse e cercare di capire se vi ha scoperto qualcosa. È una cosa che poi imparate, ma è macchinosa. E qui arriviamo al terzo punto. È un gioco estremamente pesante, dato che le cose da leggere sono tantissime, i dialoghi da fare sono tantissimi, i combattimenti altrettanto, la tatticità dei combattimenti è molto profonda, molto bella, dà tantissime soddisfazioni, anche i colpi di scena, insomma. Però non è il classico gioco che giocate quando tornate stanchi da lavoro. Infatti io ci ho giocato il 3, il 4 di agosto e basta, ci ho giocato l'8 oggi. Insomma, ho fatto 6 ore, quindi sono all'inizio, ma avendo rifatto delle cose che ho dovuto ricaricare, perché questo video qui, diciamo, l'ho registrato un paio di volte ma non mi è piaciuto, e ho dovuto rifare delle scene, e adesso ho scelto di non fare niente per non spoilerare, sono andate in modo diverso alcuni dialoghi, proprio delle cutscene che sono partite in modo totalmente diverso, perché? Perché il gioco ha fatto dei sottotiri come fa il Dungeon Master. Quindi il gioco è assolutamente molto bello, è fatto bene, si denota una lore, una profondità, tanti documenti da leggere, tanti libri, approfondire le varie location, dovete avere proprio la pazienza di esplorare, di cercare di capire, soprattutto se voi partite all'inizio nella mappa e non esplorate, io ho sbagliato perché sono andato abbastanza dritto per dritto nella prima ora di gioco, e mi sono perso dei compagni, che sono quelli che poi il gioco vi dà. Quindi pensate che in Divinity, che ripeto io non apprezzo molto, perché è un tono un po' troppo scanzonato, cosa che qui fortunatamente non c'è, qua, cioè già lì, avevate un sacco di segreti che potevate esplorare e scoprire, e pensate qua, ad esempio se io arrivo con mano magica, la mano magica c'è, mi sono sempre chiesto come funziona, vi crea una mano magica e la fate camminare con il suo turno, quindi gli potete fare, prendere cose, usare cose a distanza, quindi cose molto lontane, potete usare la mano magica e andare ad attivarle ove possibile. Così come di fronte a voi avete un tizio che parla solo con orchi, ok, camuffare se stessi e vi trasformate, guardate quante scelte ci sono, vi trasformate in un orco. L'interfaccia non è facilissima, dico la verità, le cose da fare sono veramente tante, così come anche, appunto, dicevo, l'interfaccia da capire, perché ad esempio a un certo punto potete andare ad addormentare, ma c'è un counter che ho scoperto dopo un po', potete influenzare più o meno creature, l'ho fatto, si sono addormentate tutte, mi ha cambiato letteralmente la vita questa cosa, avevo un combattimento molto difficile e l'ho risolto. E qui, l'ho detto, è superiore a Solasta, superiore a Pathfinder, io ho giocato tanto Pathfinder, una trentina di ore è un altro mondo questo, ma un altro mondo. Pathfinder arrivate nel punto, combattimento, avanti punto, combattimento, qua ci sono molti più dialoghi, molte più possibilità. Non avete la gestione del regno, è vero? Ma cavoli, non vedo l'ora di arrivare a Baldur's Gate per fare varie cose. Dovete fare sempre molta attenzione e soprattutto una cosa molto importante di questo gioco avere chiaro come volete il vostro personaggio, cioè se non selezionate uno di quelli già preimpostati con la loro storia e volete crearvi la vostra, abbiate ben chiaro qual è la moralità del vostro personaggio, che cosa vuol fare, cosa non piace, perché i vostri compagni primo reagiranno alle vostre scelte, ma soprattutto farete una build seria, farete un'evoluzione del vostro personaggio seguendo la vostra idea e potrete rigiocarvi il gioco eventualmente poi cambiando. Oppure ve lo giocate qualche ora e lo ricominciate, ma fatelo veramente senza paura perché il gioco è veramente una soddisfazione unica. L'ho criticato perché la criticità della visuale persiste, magari mi passerà andando avanti, inizierò a conoscere i luoghi, insomma non lo so, però rimane, così come anche il discorso dei tiri che io vado lì e a un certo punto qua mi fanno tutti un tiro di qualcosa e questo capita anche in combattimento e quello è un peccato che magari nella frenesia del combattimento non notate delle cose. Lì c'è sempre il log, c'è la possibilità di vedere i dialoghi fatti, quindi insomma, però ecco, questo lo rende un gioco non adatto a tutti e voglio specificarvelo onde evitare che poi voi lo acquistiate e ci rimanete male, non capisco niente, capisco niente, che poi non capisco niente, l'ho pensato anch'io per la prima mezz'ora. Perché veramente ero un po', ero stupito, ho detto subito grandissimo gioco, che pazzesco perché aveva tanti tasti, tante possibilità, tantissimi dialoghi, però non capirò niente, l'interfaccia qui devo ancora studiarmela bene tutta e questo avverrà. Non bisogna avere assolutamente fretta di finirlo perché è un gioco da decine, 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 decine di ore. Quindi spero abbiate apprezzato il mio video, le mie impressioni velocissime su questo gioco, senza spoilerare nulla, destinato più a chi è indeciso se acquistarlo o meno, ovviamente i YouTube, il sito Viola, insomma vi offrono mille gameplay, mille live da vedere di gente che gioca, non ha senso secondo me. Le guide hanno senso, quelle fatte adesso, da un giocatore esperto con decine di ore sulle spalle, ma guardare qualcuno che gioca, alla fine bene o male la storia ha mille sfaccettature, mille finali, però vi spoilerate tante cose, se ve lo volete giocare non guardate. Quindi, io concludo, vi chiedo di lasciarmi un commento qua sotto, di farmi sapere se avete apprezzato questa mia analisi, così dopo le prime ore, insomma il mio commento, il mio consiglio per gli acquisti, e alla prossima, ciao ciao!